Ecma 2018, la casa di Schiranna, porta sul proprio stand anche la MV Agusta F3RC, ovvero la variante dedicata al reparto corse della sportiva di medio-grande cubatura della casa di Schiranna. La F3RC verrà infatti proposta nelle cubature 675 e 800, qui in particolar modo di fronte a noi vediamo la 800, notiamo tantissimi particolari di derivazione sportiva, anche su questa moto come sulla F4RC è disponibile l'impianto di scarico SC Project insieme a tutto il kit racing per incrementare le prestazioni della moto. Tantissimi particolari di estrazione sportiva, anche sulla F3 troviamo la colorazione ispirata dalle grafiche adottate da MV Agusta nelle corse sia in super sport che in super bike. troviamo anche sulla F3 675 e 800 RC la colorazione ispirata dal reparto sportivo che si freggia dei colori della bandiera italiana, bellissima la sella con materiale a contrasto in pelle alcantara e con impunture a vista, ovviamente di pregio tutti gli inserti che contraddistinguono una moto di questo genere, la strumentazione rimane quella digitale tradizionale della F3, al comparto frenante troviamo le solite Brembo servite da ABS sportivo e in bella vista il numero 37 che indica come sempre il numero delle vittorie conseguiti da MV Agusta nel campionato mondiale. Grazie a tutti.